Il Cilento è una subregione della Campania, a pochi chilometri da Napoli, incastonato tra il mare e l'Appennino. Cento chilometri di costa, bagnati da acque cristalline. Un mare che appartiene al mito. Proprio qui, narra la leggenda, vivevano le sirene che tentarono di incantare Ulisse. Una di loro si chiamava Leucosia e da lei prende il nome questo tratto di costa, Punta Licosa. Su questa costa arrivarono i Greci nel VII secolo a.C. A un passo dal mare fondarono una città, Poseidonia, Pestum, come la chiamarono poi i Romani. I templi erano dedicati ad Era, la dea della fertilità, e ad Atena, la dea della saggezza. Raccontano di una città ricca e potente, di quando, 26 secoli fa, le colonie della Magna Grecia rendevano il Sud Italia una delle aree più progredite del mondo. Il più grande, chiamato di Nettuno, costruito nel 450 a.C., è uno dei più importanti esempi di architettura dorica. In circa due ore si visitano la città greca e le rovine romane. A Pestum, l'estate, si tiene un festival. Da Shakespeare ai Pink Floyd, ogni sera si può assistere a spettacoli nella scenografia di una delle aree archeologiche più belle e meglio conservate del mondo. All'interno, nelle vicine montagne, l'acqua nei secoli ha modellato questo territorio fatto di roccia cassica. Nell'oasi WWF delle grotte di Morigerati, il fiume Busento, dopo un misterioso percorso sotterraneo di 4 km, riemerge dal buio. In fondo alla grotta, alta 20 metri, l'acqua riprende il suo corso in superficie. È uno degli importanti e rari fenomeni geologici che caratterizzano il Cilento. La gola è ai piedi di Morigerati, uno dei borghi montani spesso svuotati dall'immigrazione. Ma le case di Morigerati ora sono alloggi per i turisti e così un intero paese si è trasformato in albergo. Tra montagne che sfiorano i 2000 metri di altezza, le più alte della campagna, regna il silenzio. Nella valle delle Orchidee di Sassano, tra le rocce fioriscono non semplici margherite, ma a pianterare. In tutta Europa e nel vaccino del Mediterraneo sono state segnalate 319 entità di orchidee spontanee. Nel Parco del Cilento ne crescono 254. pochi chilometri e il panorama cambia. Fredde sorgenti di acqua dolce hanno dato il nome al porto naturale degli infreschi. La costiera cilentana vanta due aree marine protette e 10 bandiere blu, il riconoscimento internazionale di un mare pulito. Da Marina di Camerota, famosa località palneare, si parte in barca alla scoperta di uno dei tratti di costa più aspri e selvaggi, quello tra Capo Palinuro e il Golfo di Policastro. Decine di grotte marine si aprono nella roccia. Anche qui, come nella vicina Capri, c'è una grotta azzurra. Anche qui la luce filtra da una cavità sottomarina e illumina il buio di blu. Dal mare alle montagne, un territorio protetto dal più grande parco nazionale d'Italia, il Parco del Cilento e Vallo di Diano. Riserva della biosfera, patrimonio mondiale dell'umanità e geoparco dell'UNESCO. Monaci e Munaceddi è il nome di un itinerario alla scoperta della storia e della cultura di questa terra, lungo sentieri, un tempo battuti da viandanti e contadini. Le montagne, si narra, erano popolate di folletti, chiamati Munaceddi. Giù a valle si può fare rafting lungo il fiume Tanagro, lasciandosi trasportare dalla corrente per un percorso di 5 chilometri. Il fiume raccoglie anche le acque che provengono dalle vicine grotte dell'Angelo Apertosa, tra le più grandi d'Italia. Per accedere bisogna superare un laghetto, poi un labirinto nella montagna lungo 3 chilometri. Il giovedì e il sabato nelle grotte va in scena l'Inferno di Dante nelle grotte Apertosa. Gli spettatori seguono il racconto dei dieci gironi dell'Inferno in una scenografia naturale antica a 35 milioni di anni. Sulla porta di cedro del Libano è raffigurata l'immagine di San Lorenzo, martire bruciato su una graticola. A lui è dedicata la Certosa di Padula, una delle più grandi del mondo e una delle più importanti dal punto di vista artistico e architettonico. 52.000 metri quadrati, 320 stanze, 13 cortili. I numeri non ne rendono la bellezza. Fu un nobile, Tommaso di San Severino, conte di Marsico, a volerne la costruzione nel 1306. Era divisa in due parti, la Casa Bassa, in contatto con il mondo esterno, e la Casa Alta, dove vivevano i monaci in clausura. Producevano vino, olio, frutta ed ortaggi. I pasti venivano preparati nella grande cucina rivestita di mattonelle gialle e verdi che si credeva scacciassero gli insetti. Il chiostro della Certosa di San Lorenzo a Padula è il più grande del mondo. Sui lati si affacciano le celle dei monaci, una vita di preghiera e lavoro avvolta dal silenzio. Di solito erano i secondogeniti di famiglie ricche a consacrarsi alla vita monastica e per essere ammessi dovevano portare in dono terreni. Così, nel corso dei secoli, la Certosa gestì sempre maggiori possedimenti e si arricchì di opere d'arte. Castellabate è stato il set cinematografico della commedia diretta da Luca Miniero, Benvenuti al sud. Claudio Bisio, nei panni di un direttore delle poste Brianzolo, pieno di pregiudizi sul meridione, scopre qui invece una terra bella e ospitale. Belli e ospitali sono tutti i borghi che si affacciano sulla costiera cilentana, stretta tra il mare e le colline. Strade e piazzette che ogni estate richiamano turisti da tutto il mondo. Borghi come Aceroli, con la chiesa del XVI secolo che incornicia il porto. Una terra di colori e sapori. È qui che è stata scoperta la dieta mediterranea, proprio studiando l'alimentazione dei cilentani, dallo scienziato americano Ansel Keys, che abitò a lungo in Cilento e visse cento anni. Sapori che appartengono alla storia, come le alici di menaica di Pisciotta. Dai tempi dei greci si pescano con una rete, la menaica, che cattura solo i pesci più grandi, tutelando così il delicato equilibrio dell'ambiente marino e a sentire chi la produce, dandogli anche un particolare sapore. Si sente proprio in bocca un gusto unico, perfetto, senza retrogusto. È una corsa dal male alla lavorazione che ci permette poi di avere una qualità diversa. Il cilento è bello e incontaminato. Forse non tutti sanno di avere un tesoro così a portata di mano. Ed è importantissimo conoscere i tesori d'Italia, i tesori del nostro paese, perché molte volte non serve fare migliaia di chilometri. Adesso signora.